Ciao a tutti e benvenuti in un nuovissimo video di Dadokai Oggi siamo su Rainbow Six Siege A fare una classificata con il mio amico Sale Spero che il video vi piaccia E vi lascio al video Ciao 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 Dobbiamo individuare una bomba Il drone alliato trova tu le bomba Tricarico l'arma Ciao Tricarico l'aria dell'explosione Tricarico l'aria dell'aria Hai perso il disinnescatore Abbiamo il disinnescatore Stavolato bruto Difensori eliminati Musione d'attacco riuscita Tricarico l'aria dell'aria Ciao Dovete usare il drone per trovare una botta. Hai trovato una bomba? Oh, io. devi recuperare il disinnescatore il disinnescatore è di nuovo nostro disinnescatore attivo, proteggetelo a tutti i costi illuminiamo l'ambiente si muoviamo con attenzione cambio caricatore difensori neutralizzati, vittoria per gli applicati grazie a tutti 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 1-1 grazie a tutti grazie a tutti